Eccoci qua, la seconda parte del corso, che in realtà la prima era un'introduzione, quindi questa sarebbe, iniziamo a vedere un po' di ciccia, un po' di materiale, un po' di norme, un po' di informazioni, in questa parte vediamo appunto i principi fondamentali del diritto d'autore. E li vediamo cominciando a rispondere a questa domanda, cioè di cosa si occupa il diritto d'autore, cioè che cosa tutela di preciso il diritto d'autore. Così togliamo, sgombriamo il campo da una delle più diffuse leggende metropolitane, la confusione tra diritto d'autore brevetto, diritto d'autore marchino, che sono altre forme di tutela che fanno parte della cosiddetta proprietà intellettuale, ma che non riguardano le opere creative, le opere dell'ingegno di carattere creativo, che invece come vedete qua in rosso sono l'oggetto del diritto d'autore. Dice, allora ecco, intanto vi introduco anche la legge, nel senso che la vedremo spesso, cioè buona parte delle slide pescano norme, vanno a prendere norme da questa legge, che è la legge 633 del 1941. È una legge, come vedete, diciamo, di matrice molto antica, però non rimasta uguale a se stessa dal 1941 ad oggi, come potete giustamente immaginare. Già lo vedete qua, si parla di software, di banche dati, è chiaro che è già stata modificata per essere adeguata ai tempi. Però sì, è una legge effettivamente molto molto vecchia. L'articolo 1 e l'articolo 2 rispondono a questa domanda, appunto, di cosa ci occupiamo. Sono protette quindi ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo, vedremo che appunto il carattere creativo è l'elemento fondante, il requisito che fa scattare il diritto d'autore, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque nel sia il modo o la forma di espressione. Cioè, quindi ha elencato, cioè ha individuato l'oggetto, che è questo in rosso, opere dell'ingegno di carattere creativo. E poi circoscrive alcuni ambiti in cui questo ingegno, questa creatività umana si esprime, che sono sostanzialmente tutti, cioè più o meno tutti i campi della creatività umana. Letteratura, perché letteratura è a 360 gradi, letteratura anche tecnica, anche manualistica, anche saggistica. Anche quella che sto facendo io adesso è letteratura, cioè questa mia lezione, questo mio corso, nel momento in cui viene sbobinato, viene esteso su testo, è comunque un'opera letteraria, viene fuori, se qualcuno domani si mette a sbobinare questo mio corso, viene fuori una piccola dispensa di diritto d'autore, no? E quindi è un'opera letteraria, anche se io l'ho resa in forma orale. Oppure la musica, oppure le arti figurative, anche qua 360 gradi, e quindi rientrano anche tutte le forme di creatività grafica di oggi, cioè quelle multimediali, la grafica, 3D, i videogiochi, via dicendo. L'architettura, il teatro, la cinematografia, e poi dice qualunque ne sia il modo la forma di espressione, quindi effettivamente molto ampio, no? Perché adesso cinematografia vuol dire tante cose, tant'è che adesso buona parte della cinematografia viene fruita neanche davanti a un cinema, come direbbe la parola stessa, ma attraverso altre forme, che sono quasi sempre mediate dalla rete internet, e quindi piattaforme varie, Netflix e via dicendo. Aggiunge poi questo comma, che io ho abbreviato un po' perché era molto lungo, che sono altresì protetti i programmi per il laboratore come opere letterarie, nonché le banche didattiche per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono la creazione intellettuale. Vabbè, non ci occuperemo squisitamente di programmi e di banche dati, parliamo di didattica, quindi credo che interesse di più l'ambito della letteratura, della musica, dell'arte figurativa, tendenzialmente. Però ecco, interessante, oddio, per i docenti di informatica è interessante questo rilievo, che sostanzialmente il programma per il laboratore viene equiparato all'opera letteraria. Ovviamente chi ha un minimo di competenze informatiche non rimane particolarmente sconvolto da questa cosa, perché sa che il software si sviluppa in forma di linguaggio, di linguaggio di programmazione, quindi è molto simile come tipo di creatività a quella che sta dietro la creazione di un manuale tecnico. Cioè scrivere software è come scrivere un'opera con delle indicazioni, con delle funzioni espresse sotto forma di codice, che ha una sintassia, ha delle sue regole, una sorta di grammatica, che permette poi alla macchina di essere istruita e fare le cose che deve fare, quindi svolgere le funzioni del software, ok? E le banche dati, vabbè, anche qua da una definizione, non ce ne occuperemo così tanto nel dettaglio. L'articolo 2, che è quello che segue, non fa altro che rispondere alla stessa domanda in modo più dettagliato, cioè, diciamo, scompone quello che hai già detto nell'articolo 1 in 10 sottocategorie di opere. Le vedete qua. No, ho spezzato la slide perché erano troppe 10, non ci stavano. E quindi queste sono sostanzialmente le 10 categorie di opere dell'ingegno di cui si occupa il diritto d'autore. Fuori da quest'ambito probabilmente vuol dire che non siamo sotto il cappello del diritto d'autore. Cioè, se ci stiamo occupando di qualcosa che non è in questo elenco e non è riconducibile neanche indirettamente a questo elenco, è un indizio che siamo fuori dall'ambito del diritto d'autore. Vedete, adesso lo possiamo far passare velocemente, però siamo sempre qua. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Quello che vi dicevo prima, no? Cioè, l'opera letteraria si può rendere ancora in forma orale. Le vostre lezioni sono delle opere letterarie espresse in forma orale. Le opere, le composizioni musicali con o senza parole, le opere coreografiche pantomimiche, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, arte figurativa similare, compresa la scenografia, e questo credo che interessi molto per l'attività didattica nella scuola pubblica, perché si parla di storia dell'arte, si parla di storia, si parla di fotografia, si parla di pittura in generale. I disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica muto-sonora, e le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo. La norma del 41 si fermava al punto 7, no? Come potete immaginare, il legislatore del 41 si poteva, la sua fantasia, diciamo, poteva arrivare a qua. Negli anni successivi, con l'evoluzione della tecnologia, si è evoluto anche la creatività umana, nel senso che ci sono trovate nuove forme di creazione, nuovi tipi di creazione intellettuale. Uno è il software, eccolo qua. Una sono le banche dati, li abbiamo già nominati, unico punto nuovo rispetto a quell'elenco che abbiamo visto prima, ed è infatti l'ultimo storicamente inserito nella legge, cioè nel 2001, è stato inserito questo punto 10, le opere del design industriale. Non ce ne occupiamo, però era giusto per darvi la completezza della materia. La domanda al negativo ci aiuta anche qua a sgombrare il campo dall'altra grande leggenda metropolitana, cioè il fatto che il diritto d'autore si occupa di idee, no? Quell'idea è mia e quindi ho il copyright. Grande frase che si sente dire spesso e che invece è forriera di un errore, no? Cioè se uno all'esame all'università da me viene a dirmi che il copyright tutela le idee è già insufficiente, perché vuol dire non aver compreso tutto il meccanismo. Vedete che l'articolo 9 dei TRIPS sono un trattato internazionale, probabilmente il principale trattato internazionale in materia di diritto d'autore e di copyright, quindi questa norma è stata sostanzialmente sottoscritta da tutti i paesi industrializzati che aderiscono a questo trattato, e dice che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali. Cioè non è l'idea o il concetto o il metodo che vengono tutelati, ma il modo in cui io esprimo un'idea. Quindi, viva Dio, ne possiamo avere dieci diversi manuali di matematica per la scuola, che non so, per il liceo scientifico, sono dieci diversi manuali, dieci case editrici diverse, dieci autori diversi, che però dentro hanno gli stessi concetti. No, perché il programma è un programma ministeriale, è un programma più o meno approvato dall'alto, tutti devono trattare quel tipo di argomenti, la matematica probabilmente è uguale a se stessa da qualche secolo, e quindi non è che ci siano dei concetti diversi, ma diverso è il modo in cui è espresso il concetto. Quindi un manuale viene scelto sulla base non tanto dei concetti che ha dentro, ma sul fatto che uno sia stato scritto bene, sia più chiaro, sia magari impaginato, abbia una grafica più gradevole, non lo so, che sono tutte questioni creative, ma non tanto sulla base delle idee o dei concetti che ci sono in esso contenuti. Questa cosa viene precisata anche dal giurista Koehler, un giurista tedesco che scompone in forma esterna, forma interna e contenuto, e dice che insomma il diritto d'autore copre la forma esterna e la forma interna dell'opera, cioè il fatto che, non so, le parole con cui effettivamente viene espressa l'opera o anche la disposizione, il concept dell'opera, quello già denota una scelta creativa, ma non i concetti contenuto inteso come appunto concetti astrati e idee. Questo è importantissimo, perché se noi cadiamo in questo equivoco che il copyright sia sulle idee o sui concetti, non riusciamo a vivi, cioè saremmo fermi al 1700, cioè il copyright esiste dal 1700, noi avremmo un unico manuale di matematica, perché poi tutti gli altri non avrebbero potuto fare lo stesso manuale, perché l'idea era già stata coperta da qualcuno. Di idee il copyright non si occupa, se non occupa forse più probabilmente il brevetto per invenzione, ma solo quando l'idea è una invenzione industriale, quindi sull'idea astratta, per fortuna non abbiamo nessuna forma di tutela. Altro argomento su cui c'è grande leggenda metropolitana è questo, cioè quello su capire come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni. Qua lascio volutamente la slide in bianco per farvi riflettere un attimo. La domanda, attenzione, che è abbastanza precisa, cioè come l'autore di una di queste dieci cose, può essere un autore di software, un autore di un brano musicale, all'autore di un testo letterario o di una fotografia, come fa a diventare titolare dei suoi diritti d'autore, del suo diritto d'autore al singolare, potremmo dire. Dopo mettiamo il plurale. E qua c'è spesso confusione, e quando mostro poi il risultato, la parte finale della slide, vedo spesso gli occhi un po' sperduti. Perché la risposta è questa? Cioè, non devo fare nulla, cioè non è richiesta nessuna formalità per acquisire il diritto d'autore. Vedete, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Quale particolare espressione del lavoro intellettuale? Cioè, è l'atto creativo a generare il diritto. La semplice creazione dell'opera. E questo, alcuni diranno a me, ma come? Ma allora tutti possono essere titolari di tutto, possono dichiarare di aver creato... Eh no, perché allora questa è la norma, l'articolo 6 è la norma che risponde alla domanda come acquisisco il diritto. Quello che probabilmente voi stavate pensando è quest'altra domanda, cioè come dimostro la paternità delle opere. Però capite che siamo su due piani logici separati. Uno è l'acquisizione del diritto, che per appunto il diritto italiano, ma anche per più o meno tutti gli altri paesi che hanno aderito ai trattati internazionali, è un automatismo, cioè un diritto che possiamo dire naturale. Nel momento in cui creo, se quell'opera che ho creato ha quegli requisiti di sufficiente creatività, cioè io davvero ho creato, ma non ho semplicemente pedissequamente seguito, ho riprodotto qualcosa che ha creato qualcuno prima di me, allora se c'è davvero un atto creativo, ecco che si genera automaticamente il diritto. Se però l'autore vuole essere più tranquillo, vuole essere più sicuro del fatto che nessuno gli possa usurpare la paternità dell'opera, allora sì, si può trovare il modo di avere una prova di questa paternità. La legge non ci dà un principio standard, infatti come vedete qua non è citata una norma, qua sopra non c'è il titolo di un articolo, ma è un principio, come dire, anche basato su una questione che qui è logica, nel senso che se tra due autori che stanno litigando arriva uno che riesce a dimostrare un'anteriorità temporale, tendenzialmente il giudice dà ragione ma è quello che porta alla prova con la data anteriore. Questo è un sim, è un'icona che rappresenta un calendario e quindi colui che riesce a dimostrare di avere una coppia di quell'opera precedente a quella di altri sarà quello che viene inteso come autore. E modi per dare un'anteriorità temporale a un'opera ne abbiamo a bizzeffe, nel senso che a seconda del contesto possiamo fare affidamento su un'azione da parte dell'autore, ma a volte anche no, nel senso che a volte l'autore si fa una, si invia, ad esempio, una volta si usava inviarsi una raccomandata con un testo per avere il timbro postale che dava una data certa, che era una cosa un po' artigianale, a volte non funzionava nemmeno bene, però era un modo. Adesso per fare la stessa cosa identica abbiamo la PEC, la firma digitale, cioè degli strumenti digitali che ricreano lo stesso effetto, ma lo fanno in digitale senza dover andare all'ufficio postale a farsi mettere il timbro. Però ci sono contesti in cui non si passa nemmeno da lì, nel senso che a volte è implicito, non so, pensate a una tesi di laurea che viene depositata presso la segreteria studenti di un'università, l'impiegato, il funzionario della segreteria studenti mette una data certa su quel documento, perché nel momento in cui protocolla la tesi raccolta dello studente, caspita, quella è una data certa, perché c'è appunto un pubblico ufficiale, perché in quel momento il funzionario ha un ruolo di pubblico ufficiale, che protocolla il documento, gli mette un timbro e rilasciano a ricevuto allo studente con scritto Mario Rossi ha depositato in data odierna. La sua tesi di laurea è intitolata in un certo modo. Quindi da lì in poi, se un docente oppure un altro studente o un ricercatore vuole fare il furbo e utilizzare un capitolo intero di quella tesi per fare un articolo, capite che è abbastanza semplice sbugiardarlo, è abbastanza semplice chiamarlo in causa e dimostrare che quella tesi esisteva 15 giorni prima, un mese prima, due anni prima, perché basta chiedere un accesso, una copia autenticata della tesi presente nell'archivio dell'università e il gioco è fatto. Quindi, giusto per dire che in molti casi la data certa è un problema che si risolve da solo, questo volevo dire. Ecco, però, è l'altra questione appunto di non confondere il discorso della prova, della dimostrazione della paternità con l'acquisizione del diritto, che sono su due piani diversi. Ok? Ci sono autori che non c'è... Io stesso faccio l'autore, scrivo libri, scrivo articoli, non è che per ogni articolo del mio blog mi faccio una PEC con la data certa, cioè a volte lascio che le cose vengano pubblicate e faccio affidamento, come dire, sulla buona fede del mio interlocutore, della casa editrice o del sito con cui collaboro. È una questione di scelta personale e sono su due piani diversi. Come vi dicevo prima, il diritto d'autore noi lo stiamo... fino adesso l'abbiamo denominato al singolare, ma prima io per un lapsus ho detto i diritti d'autore, ma perché è vero, in effetti sono i diritti d'autore, cioè sono tanti, sono questi qua. Adesso abbiate pazienza, dopo ve li zoomo, però voglio farvi vedere l'effetto, no? L'effetto generale di questo schema che raccoglie più o meno tutti i diritti che la nostra legge prevede e vediamo anche la loro organizzazione in questo schema ad albero. C'è una prima distinzione tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. Vuol dire che il nostro diritto d'autore è un diritto d'autore che ha queste due anime, cioè non solo permettere all'autore di remunerarsi grazie alla sua creatività, cioè avere un ritorno patrimoniale quindi economico sull'utilizzo e lo sfruttamento delle sue opere ma anche avere un legame personale con le sue opere e creare un legame reputazionale e personale che vengono chiamati in gergo diritti morali d'autore proprio per quello perché si crea un legame e creano delle tutele che non hanno molto a che fare con l'aspetto economico anzi per nulla perché vedremo che a volte sono addirittura controproducenti per l'autore dal punto di vista economico ma servono per tutelare l'autore su un piano morale personale li vediamo qua allora così andiamo in ordine sostanzialmente adesso vi zoom vi faccio un focus su le tre colonne principali lasceremo da parte questi due casi qua che sono un po' sestanti e vediamo un attimo come funzionano questi tre i diritti morali sono questi e vedete che tra le loro caratteristiche ce ne sono già due che creano non pochi problemi ovvero sono inalienabili e inestinguibili inalienabili e inestinguibili dal punto di vista giuridico creano sono due paroline magiche che creano non pochi problemi perché vuol dire che inalienabili l'autore non se ne può mai liberare quindi non ci sarà mai un contratto una licenza o qualcosa che con cui l'autore cede a questi diritti e quindi vuol dire come effetto collaterale più volgarmente ve lo spiego cioè l'autore non te lo togli mai dalle scatole io come avvocato quando devo trattare con una casa editrice sai che l'autore ce l'hai sempre lì che anche se ha ceduto tutti i diritti di utilizzazione economica in realtà lui può sempre esercitare uno di questi quattro diritti che sono morali che non c'entrano nulla con la questione economica e tra l'altro altro problema sono inestinguibili cioè questi non scadono a tot anni dalla morte dell'autore come succede per gli altri questi sono inestinguibili cioè in teoria durano all'infinito cioè all'infinito fin quando si riesce a mantenere una diciamo sequenza ereditaria gli eredi possono esercitarli ovviamente non è che si arriva a cinque secoli di storia però insomma ancora oggi ci sono gli eredi di Giuseppe Verdi gli eredi di Cartucci gli eredi di D'Annunzio che ne so che possono esercitare eventuali diritti morali in nome per conto del loro bisnonno trisnonno e perché vedete che appunto sono strettamente legate alla personalità e alla reputazione creativa dell'autore basta che li leggiamo e capite che cosa si intende abbastanza intuitivo cioè il diritto di rivendicare la paternità dell'opera cioè l'autore ha sempre la possibilità di chiedere in giudizio cioè di fronte a un giudice che la sua opera sia collegata al suo nome a volte succede che non venga collegata a volte succede che si perda il nome che si dimentichino che ci sia malafede che quindi venga rimosso volutamente il nome ecco c'è un'azione giudiziaria ad hoc per fare per tamponare questo problema e vedete che salto di uno dice anche che sono cioè questo diritto di rivendicare la paternità è esercitabile anche quando l'autore si è pubblicato cioè si è firmato con uno pseudonimo addirittura anonimo l'articolo 21 dice che c'è il diritto di rivelarsi di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore anche in caso di opere anonime o pseudonime e poi l'articolo 20 tratta torno quindi su a quello che abbiamo saltato l'altro quello che forse entra in gioco più spesso cioè il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore provate a pensare un caso in cui un'opera anche se è di secoli fa o del secolo scorso quindi probabilmente i diritti d'autore quelli di carattere economico sono scaduti quindi non devo chiedere il permesso per utilizzarla però se ne faccio un utilizzo che sia lesivo della reputazione dell'autore vado appunto a violare non tanto un diritto economico ma un diritto morale un esempio un esempio abbastanza classico è l'utilizzo di un brano di musica classica provate a pensare una marcia della Ida un vincerò una quinta di Beethoven qualche brano noto di musica classica storpiandolo in modo tale che gli dia che questa storpiatura gli dia un significato completamente diverso addirittura svilente per la deputazione dell'autore facciamo un esempio più concreto una marcia di musica classica utilizzata per un raduno neonazista come inno di un partito neonazista neofascista capite che gli eredi di Giuseppe Verdi potrebbero dire no anche se l'opera è caduta in pubblico dominio però noi non gradiamo che quel brano della traviata dell'Aida venga associato del Nabucco venga associato a un partito che fa quelle cose che ha quel tipo di impostazione perché sembra di snaturare il senso romantico di quelle opere perché se ci pensate le opere di quel periodo risorgimentale avevano valori come la patria la nazione ma ovviamente con una valenza molto più romantica e più idealista di quella che invece un partito neonazista può mettere quindi lì basta cambiare un paio di parole e sembra davvero che il testo di una di queste opere abbia un sapore un retrogusto autoritario cosa che invece non è e quindi in quel caso gli eredi possono intervenire sulla base di questo articolo 20 l'ultimo velocemente è previsto anche il diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali l'autore può anche pentirsi di aver pubblicato un'opera se sono emerse successivamente gravi ragioni morali esempio un autore di un romanzo autobiografico che insomma in un capitolo parla di suo padre come modello di moralità e dopo scopre che questo padre è stato invece arrestato per mafia per gravi reati e quindi insomma lui preferisce che il libro venga ritirato andiamo su quelle invece che troveremo più diciamo nel resto del nostro seminario perché poi perché è logica anche come cosa essendo questi inalienabili e inestinguibili cioè noi dobbiamo semplicemente sapere che esistono ma non li troveremo mai nei contratti e nelle licenze quindi una volta che sappiamo che esistono sappiamo che in queste quattro situazioni l'autore li può esercitare possiamo anche far finta che non ci siano cioè nel senso possiamo dimenticarcene e pensare al diritto d'autore come formato solo da queste due colonne cioè quelle due centrali dello schema i diritti esclusivi di utilizzazione economica infatti anche detti diritti d'autore in senso stretto e i diritti connessi che sono di altri soggetti che dopo vi mostro questi come vedete sono alienabili scomponibili indipendenti l'uno dall'altro il contrario esatto di quelli di prima no quelli di prima erano inalienabili questi sono alienabili perché vengono come dire sono stati pensati proprio per quello per essere venduti per essere ceduti in cambio di una remunerazione economica scomponibili indipendenti l'uno dall'altro si spiegano da soli cioè io posso decidere di cederne uno o due ottenerne alcuni e quindi decidere liberamente appunto se spezzarli ottenerli tutti insieme e cederli tutti in un unico contratto e questi sono quelli che a un certo punto scadono durano 70 anni dalla morte dell'ultimo autore cioè dell'autore oppure dell'ultimo autore se l'opera è stata scritta da più soggetti li vedete insomma si spiegano anche da soli perché basta leggere cioè il diritto di pubblicare l'opera il diritto di riprodurre l'opera di trascrivere l'opera di eseguire e rappresentare o recitare in pubblico l'opera di comunicare al pubblico l'opera di mettere a disposizione il pubblico di distribuire l'opera di tradurre l'opera di farne anche modificazioni e elaborazioni di farne pubblicazioni in opere di opere in raccolta quindi compilation raccolte di saggi e via dicendo di noleggiare l'opera autorizzare il noleggio al prestito e poi ce n'è uno vabbè questo molto singolare sulle vendite di opere date di manoscritti che non tratteremo in questa sede quindi vedete l'autore sostanzialmente l'autore che automaticamente diventa titolare di tutti i diritti ha tutte queste possibilità cioè ha tutte queste diritti esclusivi cioè vuol dire che è esclusivi nel senso che è l'unico soggetto che può avvantaggiarsene può escludere altri soggetti dallo sfruttamento di questi diritti dall'utilizzo e dall'esercizio di questi diritti e quindi è lui che decide a chi cederli o se tenerseli per sé sostanzialmente pubblicare riprodurre trascrivere vuol dire che appunto dall'altro lato chi vuole fare queste cose pubblicare riprodurre trascrivere deve chiedere il permesso all'autore deve farsi cedere i diritti attraverso un contratto oppure farsi dare una licenza come vi ho detto l'ultima colonna è questa cioè quella sui diritti connessi che sono sostanzialmente simili cioè come comportamento come movimento come tipo anche come gestione contrattuale sono simili a quelli che abbiamo visto prima nella slide precedente cioè quelli di utilizzazione economica sono a loro volta di carattere economico però sono di altri soggetti cioè non fanno parte non sono nello stesso schema perché questi non sono degli autori ma vedete sono connesse all'esercizio dei diritti degli autori di utilizzazione economica degli autori ma sono di altri soggetti che vedete sono il produttore fonografico o il produttore cinematografico l'emittente radiofonico televisiva che ha dei diritti separati i diritti degli artisti interpreti ed esecutori cioè soggetti che partecipano al processo creativo ma lo fanno non in un ruolo di autori ma in un ruolo diciamo di possiamo dire fra virgolette confezionatori dell'opera cioè il produttore è colui che si preoccupa del incidere mettere su un disco adesso disco è una parola ormai anche lei obsoleta infatti parla di fonogrammi cioè di registrare fare una fissazione su un supporto di un brano musicale che magari è stato scritto da altri anzi è stato scritto da altri e viene cantato da altri suonato da altri eccoli qua gli artisti interpreti esecutori in articolo 80 però il produttore ha un suo diritto separato quindi tutti i colori che poi utilizzano quel master per fare copie devono ottenere non solo il permesso degli autori delle canzoni in essi contenuti ma anche l'autorizzazione da parte del produttore fonografico che appunto ha un suo diritto connesso a sé stante questi diritti vabbè poi ce ne sono altri li potete vedere da soli vabbè l'altro interessante è questo qua il diritto relativo al ritratto i cosiddetti sono chiamati diritti d'immagine cioè i diritti di coloro che cedono la loro immagine quindi i fotomodelli le fotomodelle i testimonial della pubblicità cioè tutti coloro che cedono la loro bella faccia conosciuta per fare pubblicità loro stanno vendendo esattamente questo diritto e non è un diritto d'autore perché loro non sono autori della fotografia l'autore della fotografia è il fotografo che la scatta quindi loro sono semplicemente le persone che si mettono in posa si fanno ritrarre nella fotografia ecco perché ecco perché li troviamo tra i diritti connessi e cosa volevo dire questi si chiamano connessi ma non sono secondari rispetto ai diritti d'autore su un piano economico nel senso che spesso pesano da un punto di vista economico addirittura di più dei diritti d'autore in molti casi pensate artisti interpreti esecutori pensate agli attori e alle attrici dei film dei grandi film spesso sono le persone più pagate nella riproduzione di un film tu vuoi Giulia Roberts nel film paghi il suo cachet paghi i suoi diritti di immagine i suoi diritti di interprete esecutore lei è quella che mette la faccia sulla locandina lei è quella che poi la gente ricorda e quindi la gente a un certo punto dice sono andato a vedere l'ultimo film con Giulia Roberts nessuno dice l'ultimo film di che mette l'autore del soggetto della sceneggiatura che sono i veri autori del film o il regista che è il vero autore del film ok e quindi vedete come in alcuni casi vanno a pesare di più stessa cosa succede nel mondo discografico e cinematografico o radiofonico o televisivo cioè che ne so Mediaset che ha i diritti su sul grande fratello no su qualche programma qualche reality show su amici oltre ai diritti degli autori del programma perché ci sono gli autori se andate in fondo quando ci sono i titoli di coda ci sono gli autori però il grande insomma il grande investitore quindi anche il grande centro di diritti di gestione dei diritti è l'emittente televisiva cioè se qualcuno mette un pezzo di amici su su youtube è probabile che la prima a intervenire per rimuovere da youtube quel video che non dovrebbe esserci è proprio l'ufficio legale di Mediaset non è tanto l'autore non è tanto Maria De Filippi che magari non gli ne frega nulla anzi magari le fa pure piacere quindi questo per dire che appunto i diritti connessi si chiamano connessi ma hanno un peso davvero decisivo nel mercato del diritto d'autore non è tanto l'ufficio legale